Iniziare la Quaresima chiedendo la grazia della memoria, così stamani il Papa l'ha messa a casa Santa Marta. Nel cammino verso l'incontro con Cristo risorto bisogna stare attenti a non volgersi indietro, a non essere sordi nell'anima e al pericolo dell'idolatria. Quando il cuore si volge indietro rischia di perdere l'orientamento, la bussola, sottolinea il Papa. All'inizio della Quaresima ci farà bene a tutti chiedere la grazia di custodire la memoria, custodire la memoria di tutto quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Come mi ha voluto bene, come mi ha amato e da quel ricordo continuare ad andare avanti. E ci farà anche bene a ripetere continuamente il consiglio di Paolo a Timoteo, il suo discipolo amato. Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Ripeto, ricordati di Gesù Cristo risorto. Ricordati di Gesù. Il Gesù che mi ha accompagnato fino adesso e mi accompagnerà fino al momento nel quale devo comparire davanti a Lui, glorioso. Il Signore ci dia questa grazia di custodire la memoria. Grazie. 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 Grazie a tutti.